...e abbastanza legate quando riguarda di questione soprattutto del lavoro e dello giunto dei nostri comprensori e la qualità. Dunque, io mi ricordo, diciamo, un contributo di conoscenza un po' più piatto su quella che è stata la vicenda nel 1968 perché l'ho più sfruttato, almeno tra parte, quando sono stato responsabile del servizio tecnico.